La mia galassia è la casa della storia più epica mai raccontata. Ma poi ho trovato la pietra angolare. E tutto è cambiato. Sig, c'è soltanto un modo per dirtelo. Hai fatto un casino, un disastro, un pasticcio. Jedi Bob, sono tre modi diversi. Quando hai rimosso la pietra angolare, hai creato una nuova galassia. Ogni persona, ogni mondo, cambieranno. Dobbiamo far tornare le cose come erano prima. È tutto confuso. È una ciappola! È una ciappola! È una ciappola! Ci sono dei Jedi che ci aiuteranno. Luke Skywalker, il più grande eroe di tutti i tempi. Vediamo se ho capito bene. Nella tua galassia, mio padre è per lo più malvagio finché non diventa buono per cinque minuti e poi muore. Mio nipote mi tradisce e uccide gran parte dei miei amici. Poi torno e uso così tanta forza che finisce per uccidermi. Ma e se la metti in questo modo? Siete nei guai ora? Per tutti! Eschiusami! Dart Jar Jar? Ridicolo. È ora di andare! Cacciatai alla X? Ewok cacciatori di taglie! Per uno che passa il suo tempo a raccontare storie sugli eroi, non ha idea di come diventarlo. Oh, sì! La festa è appena cominciata. Perdiamo potenza, ci schiatteremo! Paura, 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 paura! La forza ci guiderà. Tu dici? Tu speralo! Oh, ma dai!